Agnone è anche un grande amico di Agnone, originario di queste parti, il dottor Gamberale che viene qui, che abbiamo trovato qui come mai? In vacanza o per altri interessi? Io vengo ogni mese qui, quindi per me è naturale venire a Agnone perché mi sento agnonese, sono agnonese, quindi le parentesi di tempo libero mi piace trascorrerle qui a casa mia con i miei amici. E che fa? Quali sono le sue attività qui, a parte le passeggiate? Beh, però le passeggiate non sono secondarie perché Agnone ha delle proposte di posti e di angoli rari ed esclusivi molto importanti, proprio ieri per esempio abbiamo visitato quello che si può chiamare il museo della fonderia del RAM perché oltre alla fonderia delle campane Agnone è stata importante anche per il RAM, quindi abbiamo visitato il museo delle fonderie del RAM, poi la centrale idroelettrica che fu una delle prime centrali idroelettriche che l'Italia meridionale industriale ebbe, poi abbiamo visitato le cascate del Verrino, quindi Agnone ha delle proposte di escursioni e camminate molto belle, numerose e varie. Parliamo un po' delle sue attività, lei tra prima e seconda repubblica ne ha viste tante, insomma un grosso manager di Stato e anche dell'industria privata, attualmente lei dirige uno dei maggiori fondi di investimento, qual è il suo futuro, qual è il futuro prossimo di Cammerale? Ma intanto in Italia secondo me è accaduto quello che è accaduto nel Nord Africa che sono state fatte le primavere e è arrivato l'inverno perché la prima repubblica era molto meglio della seconda, la seconda doveva correggere mali della prima, invece ha abbattuto la prima senza avere fatto una proposta seria per il Paese e quindi ci troviamo spesso dinanzi a delle improvvisazioni. Nonostante questo l'economia italiana ha retto, l'Italia ha una culla di manager, io sono stato uno di questi, ho vissuto una vita manageriale di soddisfazione personale anche di impegni che mi hanno soddisfatto, adesso sei anni fa ho lanciato questo fondo infrastrutturale, l'Italia non ne aveva alcuno, è diventato il più importante d'Europa, adesso mi accingo a lasciarlo, ma vediamo cosa ci riserva il futuro perché uno nel futuro deve esprimere l'esperienza accumulata e però deve anche lasciare spazio alle nuove generazioni e magari mettersi a disposizione per poter dare il contributo della propria esperienza e non necessariamente della propria diretta operatività.